Oggi vi faccio vedere come preparare una ricetta di alta caffetteria italiana nella vostra cucina, ma soprattutto vi darò una chicca come fare la spuma calda al cioccolato bianco. Guardatevi questi passaggi per arrivare alla bomboniera bianca! Faccio sciogliere a bagnomaria 300 grammi di cioccolato bianco, scaldo a parte 200 grammi di panna, aggiungo 80 ml di albume d'uovo al cioccolato bianco fuso, a questo punto aggiungo la panna al cioccolato, chiudo con 10 grammi di zucchero semolato, mescolo bene tutto quanto, inserisco dentro il sifone Whip Gourmet Easy, avvito la caraffa alla testata, carico una bomboletta di protossido d'azoto e posiziono il sifone all'interno di un bagno termostatato a 55 gradi. Preparo una buona moca, inserisco 20 ml di topping all'amaretto all'interno della cloche, caffè e adesso il tocco magico, spuma al cioccolato bianco calda. Polvere di pistacchio in superficie e voilà! Chiudo la cloche e l'emozione servita. Eccola qua, la mia bomboniera bianca, nella parte sottostante salsa all'amaretto di Fabri 1905, un buon caffè strato con la moca e poi la spuma calda al cioccolato che viene addolcita e resa croccante dalla polvere di pistacchio. Buona merenda a tutti eh!